La mira, argomento super 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 ostico, il solo parlare della mira in certi ambienti è satana, però effettivamente la mira fa parte della nostra sequenza di tiro, anzi diremo e vedremo che ne occupa una parte considerevole della sequenza, anche se poi la mira vera e propria è una fase piccolissima, ma esiste una teoria, una codifica per quanto riguarda la mira, esiste una teoria universale che lega la mira a tutti gli archi, a tutti gli stili di tiro. Questa è un'idea che mi è venuta in mente tempo fa leggendo un libro di Larry Wise e effettivamente tutto quello che dice Larry Wise lo possiamo considerare una teoria universale. Ciao a tutti, oggi parliamo di una cosa molto interessante, un'idea di Larry Wise che è un compoundista, ma quest'idea può ricondurre tranquillamente anche all'arco nudo e a tutti i tipi di archi, tradizionali compresi. Io l'ho chiamata un po' la teoria universale della università universale, perché in effetti tutto poi sia mira istintiva, mira collimata, mira inframmezzata da tutte queste attività, alla fine, secondo il mio modestissimo parere, possiamo poi ricondurre ad un'unica teoria. Secondo me questa teoria universale è identica a tutti i tipi di archi, siano essi storici, lombori, curvi, compound. Allo stesso tempo possiamo dire che è identica in tutti gli stili di tiro, siano essi istintivi, fluidi, dinamici, collimati, non collimati, eccetera, eccetera. Intanto la possiamo dividere in due regole principali e cinque fasi, quindi due regole da cui attenersi e cinque fasi su cui dobbiamo comunque basarci. Questa effettivamente è un'affermazione che può fare discutere, che può fare discutere molti. Se è vero che esiste una teoria universale, se è vero che esiste una mira uguale per tutti, beh, esiste la mira uguale per tutti anche per quanto riguarda archi istintivo e lombò, anche se effettivamente non se ne rendono conto, molti, molti tiratori archi istintivi e lombò non si rendono conto di mirare, ma effettivamente fanno parte di una teoria, di una teoria codificata. Quindi, anche se non sanno di doverlo fare, ma effettivamente, come vedremo più avanti, lo fanno eccome. Allora, la prima regola, tutti pensiamo sempre che sia così, ma non lo mettiamo mai in pratica, la prima regola è che la mira deve essere eseguita con la mente più che con i nostri occhi, quindi deve essere una cosa un pochettina inconscia. Dopodiché, una volta aperto l'arco, qualunque esso sia, gli occhi devono solo osservare il punto da colpire. È la mente che, in modo subconscio, farà spostare l'arco in modo opportuno per colpire il centro del bersaglio. Vediamo poi, adesso vediamo la teoria, poi vedremo anche come mettere in pratica tutte queste, tutte queste nozioni. Intanto, la prima regola, come ad esempio nel compound, è del tutto normale che il pin di riferimento si muova all'interno della zona gialla. Non ci si deve sforzare di spostare consciamente il pin del centro. Questa è un po' la regola che Larry Wise ha dato a tutti i compoundisti. Alcuni la seguono, alcuni non la seguono, però intanto è un'idea molto interessante. Dobbiamo mirare con la mente senza comandare consciamente il movimento dell'arco per arrivare alla mira. Questo permetterà, tra l'altro, di evitare l'anticipazione del tiro e tutti gli errori provocati da un'azione non coordinata. E questo ci viene utilissimo per quanto riguarda l'arco nudo. La seconda regola. La seconda regola è molto semplice. Ci dice che la mira non deve essere considerata al fine del tiro, ma solo una tappa di tutta la sequenza. Quindi non è che tutto il nostro tiro deve essere sviluppato affinché siamo pronti a rilasciare la freccia quando la punta della freccia è nel giallo. E questo è il dramma straordinario di tutti gli archi nudisti. Effettivamente è così. L'anticamera del target panic è proprio questa collimazione, questa voler mettere insieme i due punti a tutti i costi e soprattutto per quanto riguarda l'arco nudo. Quindi effettivamente nella teoria che è stata oltretutto sviluppata per il compound viene comodissima se applicata anche all'arco nudo perché evita proprio tutti i problemi di anticipazione. Oggi parliamo della teoria ma nel prossimo capitolo quando parleremo effettivamente della pratica, cioè di cosa effettivamente succede, di cosa effettivamente occorre fare per avere un circolo virtuoso per quanto riguarda la mira, lo vedremo più avanti. Oggi dobbiamo capire, dobbiamo considerare come la mira sia all'interno di tutta la sequenza di tiro. La mira è all'interno di tutta la sequenza di tiro, comunque di buona parte, anche se poi la fase come vedremo, la fase più concentrata, la fase di concentrazione sarà minima, sarà di una piccolissima parte della nostra sequenza. Però effettivamente è una teoria che permette alla mira di essere sdoppiata. Tutto e poco, nello stesso identico tempo. Vediamo adesso le 5 fasi. Tutto il percorso che porterà la mira è diviso in 5 fasi, che deve essere compreso in un unico spazio esecutivo che rispetterà la sua ripetibilità e il suo ritmo, ovviamente. Le 5 fasi non saranno soddivise da tempi esecutivi e passaggi tecnici ma saranno anche separate da diversi stati emotivi e psicologici. È logico questo, no? Le 5 fasi avranno anche al loro interno i pensieri e le tipologie emotive che scaturiscono dalla nostra attività mentale. Prima di spiegare effettivamente la teoria, vediamo cosa effettivamente capita. nella sequenza di tiro, di come la mira occupa buona parte della sequenza di tiro, di cosa succede e poi spiegheremo effettivamente dal punto di vista teorico come possiamo codificarlo e come possiamo stabilire effettivamente i concetti e i contenuti della mira. Ecco, vediamo, cominciamo col guardare, ecco, la prima fase, quella di attenzione, guardare e vedere. Dopodiché, dopo questa fase preliminare, ci saranno altri contenuti molto importanti dalle sequenze di tiro come il self-talking, l'imagery, la visualizzazione e altri fattori. Dopo osserviamo, quindi, una fase molto veloce, quindi elaborare, prima della mira, ora finalmente mirare l'ultima fase che deve essere assolutamente di concentrazione non conscia, quindi subconscia. Dopodiché, come vediamo, la mira prosegue dopo il rilascio, lo sguardo deve rimanere verso il bersaglio, quindi la mira deve essere, fa parte del follow-through e subito dopo il follow-through ci deve essere questa analisi di come abbiamo effettuato tutta la sequenza e tutta la mira. Ora vediamo effettivamente come possiamo codificare tutto questo con un metodo teorico. Intanto vediamo le fasi di attenzione. Le fasi 1, 2, 3 sono fasi di attenzione che normalmente vengono fatte in modalità conscia, cioè in modalità che noi ci accorgiamo consciamente di quello che stiamo facendo, lo facciamo con attenzione. La prima fase la possiamo chiamare guardare, mentre alziamo l'arco iniziamo a indirizzare l'attenzione visiva, quindi questo è molto importante, agganciamo il bersaglio e da questo momento parte la nostra azione di mira, già da quando alziamo l'arco, con la sua prima fase. La seconda fase la possiamo chiamare vedere, quindi percepiamo attraverso gli occhi la realtà concreta in quel preciso istante. Questa fase deve essere immediata e non può essere prolungata, diciamo il classico colpo d'occhio che ci fa capire come ci dobbiamo comportare e come dobbiamo indirizzare poi la freccia al bersaglio. La terza fase, anche questa importantissima, è osservare, cioè dalla prima e dalla seconda fase, quindi agganciare il bersaglio, colpo d'occhio, interiorizziamo tutto l'insieme. Questa fase sarà quella che dovrà cedere la mira alla fase successiva. Queste tre fasi dovranno essere fatte in totale gestione conscia. Ora passiamo alla fase 4, la fase 4 e la fase 5, che sono le fasi di concentrazione. Siamo in ancoraggio. Siamo in ancoraggio. Non dobbiamo più porre attenzione alla mira. Sarà il nostro subconscio a fare tutto in modo automatico e se l'abbiamo allenato in modo opportuno. La quarta fase la possiamo chiamare elaborare, quindi sottoporre ad esame, lavoro che fa il nostro cervello e non i nostri occhi ovviamente, il nostro cervello, quindi il nostro subconscio. Questa è una fase molto delicata, della fase che attiva il subconscio e che chiude con l'attenzione per passare a uno stato di concentrazione assoluta. Quindi qua siamo nello stato di concentrazione. Quinta fase, finalmente arriviamo al mirare. Siamo concentrati solo sul punto da colpire, compito che lasciamo fare esclusivamente alla parte sulconscio del cervello. Il particolare deve prevalere il più possibile a fuoco, pur nel contesto dell'intera visione anche se sfocata. Nel nostro caso, nel caso dell'arco nudo, è utilissimo concentrarsi e mettere a fuoco solo il centro da colpire. Più è piccolo meglio è, un puntino nero e ci viene oltretutto utilissimo nel 3D. Quindi dobbiamo lasciare la punta della freccia sfocata, alato, dove ci piace, sempre nello stesso punto, cerchiamo sempre di tenere la nostra, anche se non sarà mai sempre nello stesso punto, però la dobbiamo tenere sfocata e dobbiamo concentrarsi, concentrarci solo sul punto da colpire. Il fibbe di ritorno non sarà il solo vedere l'impatto della freccia, ma è la lettura posteriore di tutto quello che è successo nel nostro cervello elaborato in fase di ritorno. Questa fase non è da confondere con il follow-trucco avvenuto poco prima, quindi è logico che la mira dovrà proseguire, non solo dovrà proseguire dal punto di vista fisico, quindi mantenere la posizione che è quello, sarà il follow-through, ma dovrà essere anche un'analisi di come abbiamo tenuto tutte queste cinque fasi e questo sarà importantissimo. Grazie, spero che vi sia utile e alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Tutti mirano! Tutti... Tutti mirano! Ha 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 ha! Waiti per the brush up! Ha 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 ha! Grazie a tutti! Grazie a tutti!